Dopo più di tre mesi tra zone rosse ed arancioni è ufficiale la Toscana per decisione del ministro della salute Roberto Speranza torna in zona gialla dal 26 aprile. Il ritorno della Toscana in zona gialla porta anche le novità del nuovo decreto covid con le varie aperture proprio dal prossimo lunedì come quelle dei ristoranti e dei bar a pranzo e cena ma soltanto all'aperto di teatri musei sale da concerto e cinema. Resterà dunque l'obbligo della mascherina così come il distanziamento sociale ma dal 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti tra regioni o province autonome che si trovano in zone gialle o bianche che è munito di pass e invece potrà spostarsi da una regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Tornerà poi in presenza anche l'istruzione dal 26 aprile fino alla fine dell'anno scolastico si torna in classe anche alle superiori la presenza è garantita in zona rossa dal 50 al 75 per in zona gialla ed arancione dal 70 al 100 per cento. Da lunedì riaperti anche bar e ristoranti a pranzo e a cena purché l'aperto è fino alle 22 via libera anche a pasticcerie e gelaterie. L'apertura dei locali al chiuso solamente a pranzo è invece fissata dal decreto al primo giugno. Dal 26 aprile riapriranno poi al pubblico cinema, teatri, sale e concerto e live club. I posti a sedere saranno preassegnati ad una distanza di un metro l'uno dall'altro. La capienza massima consentita è pari al 50 per cento e di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e miglia è l'aperto. Da lunedì aperti anche musei con ingressi contingentati e con prenotazione obbligatoria nel weekend. Infine lo sport sarà possibile tornare a giocare a calcetto e fare attività all'aperto ma non sarà concesso utilizzare gli spogliatoi. Per quanto riguarda gli spettatori allo stadio se ne riparlerà dal primo di giugno.